Hanno passato un momento meraviglioso, si sono seduti al caffè e hanno passeggiato per il parco. Verso sera ha iniziato a fare freddo e Gianna ha detto che era ora di andare a casa perché aveva molto freddo. Lui guardò sua moglie e sorrise. La amava follemente. Stavano salendo le scale quando sentirono un pianto. Sembra che stia piangendo un bambino. Sarà piccolo, probabilmente congelato, disse Gianna. Fecero un altro piano e si avvicinarono al loro appartamento. Vicino alla porta c'era una scatola con dentro un bambino che piangeva. Gianna si avvicinò e si accovacciò accanto. Vide un pezzo di carta che sporgeva dall'angolo della scatola, lo prese, lo aprì. Cresci tu stesso, lesse Gianna e guardò Yuri con perplessità. Si erano conosciuti all'università. Quando Yuri l'aveva vista per la prima volta, aveva perso la testa all'istante. Capì subito che Gianna era l'unica ragazza per lui e che non aveva bisogno di nessun'altra. Il loro amore era puro e meraviglioso. Come tutto ciò che riguardava Gianna. Gianna entrò nel dormitorio e salì al secondo piano. Aprì la porta ed entrò in una piccola stanza per tre persone. Olga non era ancora arrivata e Natalia dormiva profondamente. Gianna lanciò lo zaino sul letto e si avvicinò all'amica. Natalia, alzati, per quanto tempo vuoi dormire? È un mese che studiamo e sei stata solo due volte a lezione. Sei venuta qui per dormire o per studiare? Come pensi di lavorare nella tua professione dopo? A caso? Natalia mormorò qualcosa di incomprensibile e si tirò la coperta sopra la testa. Gianna sospirò e decise di non disturbarla più. Se Gianna non si sbagliava, Natalia era tornata al dormitorio solo all'alba. Aprì lo zaino e tirò fuori i suoi appunti. Devo ripassare alcune cose, mormorò Gianna. Altrimenti, se perdo questo punto, dopo non capirò più nulla. Gianna e Natalia provenivano dallo stesso villaggio e dopo la scuola avevano deciso di iscriversi insieme all'Università di Medicina. Gianna prendeva sempre sul serio gli studi, a differenza della sua amica, che già il terzo giorno di lezioni aveva conosciuto un ragazzo e ora trascorrevano le notti nei club fino all'alba. Gianna sfogliava le pagine cercando di decifrare i suoi scarabocchi. Il professore parlava velocemente e Gianna riusciva a malapena a prendere appunti. Era l'unica che scriveva qualcosa, gli altri ascoltavano semplicemente o dormivano. No, così non va bene, pensò Gianna, dovrò prendere un nuovo quaderno e riscrivere tutto da capo. Che cos'è tutto questo rumore? Natalia si stiracchiò sul letto e sbadigliò. Non sembrava affatto in buona forma. Evidentemente la notte era stata movimentata. Non mi fai dormire, ti sembra il momento giusto per studiare? Sdraiati e riposa un po', davvero non ne hai voglia? Io, a differenza tua, vado a letto alle 10 di sera e quel tempo mi basta per dormire. Non sono come te che va a dormire all'alba e poi passa tutta la giornata come una mosca sonnolenta. Capisco. E dov'è la cicciona? Non è ancora tornata. Gianna guardò la sua amica con disapprovazione. Non chiamare Oiga così, sai che ha dei complessi. Perché la tormenti? Ma lei non è qui in questo momento. E poi, perché la difendi? Sei mia amica o la sua? Tua, ovviamente. Ma mi dispiace per lei. Si vede che si vergogna del suo peso. Dovrebbe mangiare di meno, così non avrebbe motivo di vergognarsi. Hai visto? Non smette mai di mangiare. Ci sono sempre briciole sul suo letto. E sono preoccupata che presto avremo i scarafaggi a causa di questa sporcizia. Già. Cosa già? Natalia non capiva e si svegliò, guardando spaventata la sua amica. La cosa che temeva di più al mondo era qualsiasi tipo di insetto che strisciava o volava. Scarafaggi. Ne ho visto uno oggi. Mentre cercavo di colpirlo, è scappato. Questo non mi piace per niente. Forse dovremmo prendere un appartamento. Eh? Non posso più vivere con una coinquilina come Olga. È una sporcacciona, disordinata e, sinceramente, una persona poco gradevole. Non abbiamo soldi, quindi dovremmo rassegnarci e vivere qui. Ma tuo padre è ricco. L'ho visto darti dei soldi, disse Natalia con un tono lamentoso. Non riusciva a capire cosa ci facesse Gianna nel dormitorio, avendo un padre così benestante. So che l'hai visto, ma la prossima volta chiederò a mio padre di darmi i soldi senza testimoni. Mi hai già preso più della metà. Vai nei club ogni giorno e il tuo ragazzo non sembra molto interessato a pagare per te. Sì, ma non voglio nemmeno che lo faccia. Sono una donna indipendente. Lo sai, gli uomini adorano donne così. E non voglio perdere Victor, sono innamorata di lui. Capisco. Quando mio padre verrà la prossima volta, parlerò con lui dell'appartamento. Penso che mi aiuterà. Il padre di Gianna era un uomo d'affari e veniva spesso in città per lavoro. Poiché sua figlia era all'università, univa l'utile al dilettevole. Era molto preoccupato per lei. Non si erano mai separati per così tanto tempo, ma rispettava il desiderio di Gianna di essere indipendente. Cercava di venire da lei in ogni momento libero, anche se quei momenti erano pochi. Forse potresti chiamarlo e sistemare la questione subito? Non posso più vivere qui. Devi avere pazienza. Non lo chiamerò. Ho ancora dei soldi. E conoscendo mio padre, verrà. È un uomo anziano. Lavora 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Quindi non voglio disturbarlo senza motivo. Sei crudele. E ora non dormirò più. Mi sembrerà che gli scarafaggi mi camminino addosso. Dobbiamo parlare con Olga. Non dovrebbe mangiare a letto. Dovrebbe farlo al tavolo e pulire tutto accuratamente dopo. Si scambiarono uno sguardo imbarazzato. Gianna non riuscì a trattenersi. Per quanto fosse tollerante, l'ordine e Olga erano incompatibili. Non capivano come potesse essere così trasandata. Poco dopo, la loro terza coinquilina arrivò e si buttò sul letto. Nonostante i suoi 18 anni, sembrava molto più grande, almeno di 30. Il letto sotto di lei scricchiolò e le ragazze la guardarono con preoccupazione. Speravano che non si rompesse, altrimenti avrebbero dovuto pagare tutte per il danno. Il letto non reggerà ancora per molto. Hai mai provato a non mangiare per un paio di giorni? Dovresti perdere qualche chilo, o meglio ancora, qualche decina. Sei così giovane. Come puoi sembrare così? Ho provato, ma dopo la dieta, in un solo giorno recupero quello che ho perso, e poi anche di più. Olga li guardava con occhi colpevoli. Ma non poteva fare molto. Era priva di forza e di volontà e aveva smesso di lottare molto tempo fa, da quando per la prima volta l'avevano chiamata cicciona. Sei sempre stata così, o hai cominciato a lasciarti andare da sola? Chiese Gianna timidamente. Ho iniziato io. Quando i miei genitori hanno divorziato, ero in ottava classe. Ero molto turbata e per consolarmi ho iniziato a mangiare. E questo è il risultato. Capisco, ma penso che sarebbe meglio seguire una dieta e sostituire il mangiare quando sei stressata con altro. Con cosa? Leggendo libri. Olga le guardava con perplessità. Quando cercava di leggere libri, le veniva ancora più voglia di mangiare. La mano si allungava automaticamente verso qualcosa di dolce. È così bello mangiare e leggere. Sarebbe bello, ma penso che dovresti trovare qualcosa di più efficace. Inizia a fumare, vedrai che torni in forma in fretta. Gianna guardò l'amica con rimprovero, pensando che fosse esagerato. Non si può consigliare una cosa del genere. Meglio mangiare che fumare, anche se entrambe le cose non sono il massimo. Natalia, ma cosa dici? Vogliamo che il corpo di Olga si purifichi, per farla sentire meglio. E tu cosa suggerisci? Dai, stavo scherzando. Siete tutte così serie. Gianna, cosa stai scrivendo tutto il tempo? Natalia cercò di sbirciare il quaderno senza alzarsi dal letto. Non riusciva a vedere e questo la irritava. Sto riscrivendo gli appunti. Quello che ho scritto oggi è impossibile da leggere. Finché ho ancora qualcosa in mente. Voglio riscrivere tutto. Altrimenti dimenticherò e queste scarabocchi saranno illeggibili. Ma non hai proprio niente da fare. Non ti annoia a fare queste cose? Gianna, perché sei sempre così perfetta? Yuri tornò a casa. I suoi genitori erano al lavoro. Così andò in cucina a mettere il bollitore sul fuoco. Non riusciva ancora a riprendersi dalla conversazione con la sua ragazza, che gli aveva confessato di tradirlo costantemente perché si annoiava con lui. Ma cosa non va? Andiamo al cinema e nei club insieme. Cos'altro ti serve? Ci andiamo solo nei weekend. Ma io voglio uscire tutti i giorni. Ma io devo anche studiare. Per te è facile. Non studi e hai tutto il tempo per te. Ma io non posso. Devo andare all'università ogni mattina. Oh, non accusarmi del fatto che non studio. Non sono riuscita a entrare quest'anno. Ma ci riuscirò il prossimo. Non sforzarti troppo. Nel tuo caso, faresti meglio a sposarti. Così la tua vita si sistemerebbe. Studiare non fa per te. Lei lo guardò attentamente, cercando di capire se fosse serio o stesse scherzando. Ma l'idea le piacque molto. Beveva il tè e pensava che, dopo tutto, Lika non gli era mai piaciuta molto. Gli dava fastidio solo il fatto che l'avesse tradito. Ma tutto sommato non era successo nulla di grave. Poco dopo lo chiamò Valerio per chiedergli come stava. Tutto a posto. Sto bevendo un tè. Vieni a trovarmi se vuoi. Stasera andiamo in un club. È da un po' che non ci andiamo. A proposito, ti dispiace molto per Lika? No, è stupida. Quindi va bene così. Mi sento persino sollevato che tutto sia finito. Mi stavo già stancando di lei. È interessante come a volte succeda. Bella fuori, ma con un contenuto terribile. Esatto. Eppure, continua a cercare di dimostrare a tutti che stare con lei è già un grande vantaggio. Allora, andiamo al club? Va bene. Non ci andiamo da un po'. Giana fu svegliata dal suono del cellulare. Era domenica e sognava di dormire fino a tardi. Guardò lo schermo infastidita. Il suo malumore svanì quando vide che era papà a chiamare. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Scusami se ti chiamo così presto. So che la domenica vuoi dormire di più, ma ho poco tempo. Stasera devo essere a casa. Ho un incontro importante, ma ho una sorpresa per te. Sono già davanti al dormitorio. Preparati ed esci. Giana saltò giù dal letto e cominciò a infilarsi i jeans. Sei impazzita? Oggi non ci sono lezioni. Perché ti stai affrettando così tanto? Chiese sonnolenta Natalia. Papà mi aspetta giù, quindi vado in fretta. Senti, compra una torta. Sicuramente ti ha portato dei soldi. Oh, la torta è una buona idea, disse Olga. Non sognarci nemmeno. Non è per te. Mangia già come se non sapessi chi sei. Ti abbiamo detto di metterti a dieta e tu pensi alla torta. Ragazze, non litigate. La torta la compro. Poi ci beviamo un tè. Si sedette in macchina con suo padre, che la portò al suo caffè preferito. Dai, figlia mia, facciamo colazione. Sono in piedi dalle cinque e sono stanco. Ho una fame tremenda. Giana guardò suo padre e sorrise. Lo amava moltissimo, soprattutto dopo che si erano avvicinati ancora di più, quando sua madre era morta. Giana frequentava la settima classe quando accadde. Per la loro famiglia fu un grande dolore. La mamma era la persona più gentile e luminosa che avessero mai conosciuto. Nei primi tempi, Giana temeva per suo padre, soprattutto quando lo sentiva piangere di notte. Le sembrava che in quei momenti potesse fare qualcosa di avventato. Ma per fortuna, tutto andò bene e ora cercavano sempre di sostenersi a vicenda in ogni cosa. Papà, durante le vacanze verrò da te. Magari potremmo andare da qualche parte. È da tanto che non fai una vacanza. Ottima idea. Dove ti piacerebbe andare. Magari possiamo andare da zia Lyudmila al mare. D'estate lì è fantastico. Pensavo volessi andare all'estero. E invece vuoi andare da zia Lyudmila. Che figlia ho? Mi sorprendi sempre. Ma sai una cosa, sono felice che tu sia una ragazza così semplice. Quando sento i miei amici parlare dei loro figli, mi vengono i capelli dritti per lo spavento. Lo so, ce ne sono tanti che pensano che i soldi dei loro padri gli apriranno tutte le porte. Ma non fa per me. Però, sai, papà, ti sono davvero grata. Mi aiuti sempre così tanto. A volte mi sento a disagio e sto pensando di trovare un lavoretto. Non ci pensare nemmeno. Avrai tutto il tempo per lavorare, ma ora pensa solo a studiare, tesoro mio. Per chi pensi che faccia tutto questo? Non certo perché mia figlia, dopo l'università, debba correre a lavare i pavimenti. E a proposito, ho una sorpresa per te. Apri il vano portaoggetti. Gianna esegui il comando del padre. Dentro c'era una scatolina. La prese e la aprì. Dentro c'erano delle chiavi. E lei guardò suo padre con stupore. Papà, cos'è? Sono le chiavi del tuo nuovo appartamento. Tra l'altro, si trova vicino all'università. Dopo colazione andiamo subito a vederlo. Gianna si gettò al collo di suo padre. Grazie, grazie mille, papà. Sono così felice, non puoi immaginare. Piano, figlia mia. Non dimenticare che sto guidando. E sono molto felice che la mia sorpresa ti sia piaciuta. L'appartamento era meraviglioso. Suo padre lo aveva arredato con mobili che Gianna aveva sempre sognato. Papà, quando hai avuto il tempo di fare tutto questo? È tutto così lussuoso. Hai persino fatto dei lavori di ristrutturazione. Mi sono impegnato. È il mio regalo per averti vista entrare all'università. Sei bravissima. Ecco dei soldi. Ti manca solo comprare la biancheria da letto, le stoviglie e qualcosa da mettere nel frigorifero. Ma penso che ci riuscirai facilmente. Grazie, papà. Comunque, non mi trasferirò qui da sola, ma con Natalia. Sì, certo, ma ho solo una richiesta per te. Giusto per sicurezza. So che sei una ragazza responsabile e spero che qui non si formino gruppi di amici per fare feste fino al mattino. Ho capito. Papà, ti prometto solennemente che non succederà nulla del genere. Capisco perché lo dici. Natalia è una ragazza molto socievole, ma conosce il mio carattere, quindi si comporterà bene e tutto andrà per il meglio. Bene, non ho dubbi su di te. Ora devo andare, ho un incontro importante. Ce la fai a trasferirti da sola? Certo, papà, ho poche cose. E così io e Natalia riusciremo anche a fare un salto nei negozi. Gianna rientrò nella stanza e si sedette sul letto. Aspetta, dov'è la torta promessa? Gianna guardò l'amica, tirò fuori le chiavi dalla tasca, le agitò e disse. Penso che festeggeremo con la torta quando inaugureremo la mia nuova casa. Natalia saltò dal letto urlando e si precipitò ad abbracciare l'amica. Hai chiesto a tuo padre di affittare un appartamento per noi? No, mio padre mi ha regalato un appartamento. Quindi ora ho una casa tutta mia. Sul serio? Fantastico. Quando ci trasferiamo? Subito. Dobbiamo ancora comprare la biancheria da letto e le stoviglie, quindi muoviti. Olga entrò nella stanza e guardò le ragazze che stavano raccogliendo le loro cose. Dove state andando? E la torta? Ho fame. Vieni a mangiare la torta stasera. Festeggiamo l'inaugurazione della casa. Ah, vi trasferite? Sì, il papà di Gianna le ha comprato un appartamento, quindi ora vivremo lì. Anch'io voglio venire con voi, non voglio restare qui senza di voi. Olga, scusa, ma l'appartamento ha solo due stanze e non ci sarebbe un posto dove farti dormire. Inoltre, non posso permettermi di mantenervi entrambe. I genitori di Natalia ci aiutano economicamente, ma tu? Beh, mia madre mi dà qualche soldo, lo sapete, mangio alla mensa universitaria, altrimenti morirei di fame. Appunto, non possiamo permetterci di mantenerti, mi dispiace. Gianna diede un colpetto a Natalia. Natalia, non essere così dura, non vogliamo offendere Olga. Il problema è che davvero non ci sarebbe posto per dormire, quindi scusa. Natalia rimase sbalordita alla vista dell'appartamento. Mio Dio, pensavo che avremmo dovuto fare dei lavori di ristrutturazione, ma è tutto così lussuoso, incredibile. Anch'io sono rimasta stupita quando l'ho visto. Gianna, sei già entrata in camera da letto? È meravigliosa. Sì, papà ha comprato i mobili che mi piacciono. Conosce bene i miei gusti, sono entusiasta di tutto. Gianna, in cucina c'è persino una lavastoviglie. È un sogno, altro che appartamento. Gianna sentì un urlo provenire dalla cucina e corse. Natalia era in piedi e guardava un robot aspirapolvere che si muoveva da solo per la stanza alla ricerca di polvere e sporco. Perché urli? Non hai mai visto un robot aspirapolvere? Lei indicò l'angolo dove era collegata la sua base di ricarica. Fantastico! È il nuovo modello. Torna alla base da solo per ricaricarsi. Come un telefono. È una cosa davvero fantastica. Scendi da lì. Non morde. Gianna, non puoi immaginare quanto mi abbia spaventata. Sì, l'ho capito. Andiamo a fare la spesa. Dobbiamo comprare tutto. Tra l'altro, dobbiamo prendere anche sapone, shampoo e detersivo per il bucato. Ci basteranno i soldi? Sì, papà mi ha dato una bella somma. Ma non guardarmi così. Dobbiamo essere parsimoniose. Ah, Gianna, se solo avessi un padre come il tuo, comprerei i vestiti più belli per l'università. E tu invece giri con quei vecchi jeans e ho notato che hai molte camicette, ma la giacca è proprio cinese. Natalia, sono venuta qui per studiare, non per sfilare. Quello che ho mi basta, quindi non mi preoccupo. Andiamo? Su. A proposito, non porteremo nessuno a casa. È la condizione di mio padre. Gli ho promesso che andrà tutto bene. Ma questo è ovvio. Voglio solo dirvi una cosa. Sarà noioso senza compagnia, ma non è un problema. Sono sicura che te la caverai. Il giro per i negozi richiese molto più tempo di quanto avessero previsto. E quando stavano salendo nell'appartamento, Natalia disse, Gianna, non ce la faccio più. Forse abbiamo fatto male a comprare subito anche il cibo. Magari oggi potevamo mangiare in qualche caffè. Non lamentarti, siamo quasi a casa. E non voglio mangiare al caffè. Impara a risparmiare. Se cuciniamo a casa, sarà buono e conveniente. Dio mio, ma da dove vieni? Sei proprio una santa. La sera stavano bevendo tè e osservavano il robot aspirapolvere che si muoveva per la stanza. Ma lui pulisce solo la cucina. Non va nelle altre stanze. Perché? Ci è già stato. Quando? Mentre eri in bagno. Ok, andiamo a dormire. Domani dobbiamo alzarci presto. E io oggi sono davvero stanca. Natalia si mise a letto brontolando. Non posso crederci. Vado a dormire alle dieci. Questo è contagioso. Tra una settimana diventerò una santa come te. Ma Gianna non la sentiva più. Era già addormentata. Yuri era seduto su una panchina con gli amici e guardava con interesse le ragazze che andavano verso l'istituto. Tra le matricole ci sono molte ragazze carine. No, non tante. E qualcuna come Lika. Chi se ne frega di Lika, ormai non interessa più a nessuno. Penso che ormai siano stati tutti con lei. È una tipa molto affettuosa, tutti risero. Perché sta sempre intorno all'istituto, se non studia? Sta lì perché non ha niente da fare. Ha provato a entrare due volte, ma non ha abbastanza cervello. E i suoi non possono permettersi di mandarla in un'università a pagamento perché non hanno soldi. Yuri notò due ragazze che si affrettavano verso l'istituto. Una non era un granché, ma sembrava comunque carina, mentre l'altra era come un angelo. Notò che nemmeno i vestiti semplici la rendevano meno bella. Anche se indossasse un sacco, sarebbe stata comunque meravigliosa. Chi è quella? Qualcuno la conosce? Non molto, sono matricole. Quella con la giacca rossa è, mi pare, Natalia. Le piace andare nei club. L'ho vista lì un paio di volte, e infatti è lì che ci siamo conosciuti. L'altra non la riconosco, non esce mai, quindi non so chi sia. È carina, si vede subito che è molto timida. Yuri le guardò mentre si allontanavano, pensando che gli sarebbe piaciuto conoscere meglio quella ragazza riservata. Yuri e Gianna passeggiavano nel parco. Era primavera, faceva molto caldo e il sole splendeva luminoso. Sulle piante spuntavano già le prime foglioline verde brillante. Amo la primavera, dopo il freddo è così piacevole riscaldarsi al sole. E poi è meraviglioso non avere le mani e i piedi gelati, disse Gianna. Sì, ricordo, correvi sempre a lezione tutta avvolta nella sciarpa, dalla testa ai piedi. La primavera è meravigliosa, ma vedo che sei un po' triste. È successo qualcosa? È solo che quest'anno ti laurei e io ho ancora tre anni da studiare. Questo mi rende triste, mi sono abituata ad averti sempre vicino. E ora tutto cambia, la tua vita da adulto comincia. Gianna, non è un problema, ci vedremo comunque la sera e nei fine settimana andremo al cinema. Il tempo volerà, vedrai. E poi sai che non ti libererai di me facilmente. Dopo la laurea ci sposeremo subito. E poi mi hai promesso di presentarmi a tuo padre. Lo ricordo, ma ora è all'estero e non tornerà presto. Quindi dovrai aspettare. E, all'inizio, dovremo affittare un appartamento. Farò di tutto per comprare una casa, ma dovremo essere pazienti all'inizio. Gianna guardava gli uri e non riusciva a capire se stesse scherzando o parlando seriamente. Ma io ho già un appartamento. Perché dovremmo affittarne uno? Non credo che alla tua amica Natalia piacerebbe che vivessimo a casa sua. Cosa? Cosa c'entra Natalia? Beh, è il suo appartamento, no? Tutti sanno che suo padre le ha regalato l'appartamento quando è entrata all'università. Pare che sia quasi un milionario. Ecco la furbetta. Beh, oggi si prenderà una bella ramanzina da me. Non capisco. È mio padre che ha comprato e mi ha regalato l'appartamento. E lei sta dicendo a tutti che è suo. Non mi importa. Può anche dirlo. Ma perché l'ha detto proprio a te? Non so. Forse voleva fare colpo. Ma perché non me l'hai detto? Non me l'hai chiesto. E visto che sono a casa mia, pensavo fosse evidente. Giana entrò in casa e andò in cucina, dove Natalia stava preparando un panino. Oh, ciao. Com'è andata la passeggiata? Benissimo. Ora spiegami una cosa, amica mia. Spero che un giorno tu non mi dica di sgomberare perché questa è la tua casa e non sopporti più di avere una coinquilina. Natalia arrossì e rispose. Giana, non arrabbiarti. Ho solo notato che non dici a nessuno che l'appartamento è tuo. Così ho deciso di prendere l'iniziativa. E non hai pensato a cosa dirai quando verrà fuori la verità? O dirai a tutti che me l'hai regalato tu? Non è una cattiva idea. Probabilmente dirò così. Sei davvero incorreggibile. È impossibile parlare seriamente con te. Beh, è meglio così. Sì, immagina quanto sarebbe noioso se fossi come te. Morirei di noia. Yuri e Giana si sposarono. Fu un matrimonio semplice, solo con i parenti e gli amici più stretti. Il padre di Giana disse che aveva preparato una sorpresa per lei. Aveva affittato uno studio per la sua futura pratica medica privata. Hai sempre sognato questo, piccola, ed è il mio regalo per te. Sei in gamba e so che ce la farai. Grazie. Papà. Ma ti prego, vieni a trovarmi più spesso. Mi manchi tanto. E a volte sento davvero la tua mancanza. Ho molto lavoro, figlia mia. E poi, ora sei una donna sposata. Non voglio disturbarti. Non dire sciocchezze. Papà, sei la persona più importante per me. Voglio vederti sempre. Sai che mi fido solo di te per certe cose. E tuo marito? Non ti fidi di lui? È diverso. Lo amo. Ma sai com'è? La fiducia va guadagnata. Gianna aprì una clinica privata e gli affari cominciarono ad andare a gonfie vele. Suo padre la visitava spesso e le dava consigli. Gli piaceva che la figlia avesse un'innata capacità imprenditoriale e investiva volentieri nella sua clinica. Sapendo che presto avrebbe recuperato tutti i suoi investimenti. Natalia lavorava insieme a Gianna ed era contenta. Perché lo stipendio era molto buono e poteva permettersi di affittare un appartamento nel centro della città. Yuri lavorava in una clinica privata e non voleva cambiare nulla. Amava Gianna, ma non gli piaceva l'idea di lavorare sotto la direzione della moglie. Gianna non si offendeva. Pensava che suo marito avesse il diritto di fare le proprie scelte e non cercava di convincerlo del contrario. Nella clinica dove lavorava Yuri arrivò una nuova infermiera. Gli ricordava Lika in qualche modo. Una ragazza altrettanto bella e vivace. Si chiamava Elena. Era molto socievole e piacevole da frequentare. A Yuri piaceva, soprattutto perché ultimamente il suo rapporto con Gianna era diventato piatto e poco interessante. Gianna passava molto tempo a lavoro e, quando tornava a casa la sera tardi, era esausta. Faceva una doccia. Andava a letto per alzarsi presto la mattina e tornare al lavoro. Nel frattempo, Elena si aggirava sempre attorno a Yuri, portandogli il caffè e cercando di rendergli la vita più facile. Yuri la invitò a cena in un ristorante e passarono una serata meravigliosa. Elena era una conversatrice interessante e un'ascoltatrice attenta. Yuri si rese conto che Elena gli piaceva molto. Dopo una settimana cominciarono a vedersi regolarmente. Elena gli disse che si trovava molto bene con lui e che sapeva che era sposato, ma non pretendeva nulla e che lui doveva decidere cosa fare. Yuri le fece capire chiaramente che non aveva intenzione di divorziare, spiegando che a volte un uomo ha bisogno di attenzioni, che in quel momento non riceveva dalla moglie, e quindi doveva cercarle altrove. Ma tua moglie, cosa fa di così importante da non poterti dedicare attenzione? Ha una clinica privata, l'ha aperta da poco, quindi ha molto lavoro. La capisco, ma non posso fare a meno di sentirmi trascurato, ed è per questo che ci vediamo. Elena era una donna intelligente e sapeva che non sarebbe stato facile ottenere Yuri. Le piaceva molto, era un uomo interessante e molto bravo a letto. Si frequentavano già da molto tempo, ormai da due anni, ma sentiva che lui si stava raffreddando nei suoi confronti. Allora decise di prendere una misura estrema, avere un figlio da lui, convinta che così Yuri avrebbe lasciato Gianna per stare con lei. Gli disse che era incinta e che voleva dargli un figlio. Tesoro, immagina, avremo una famiglia, tu, io e nostro figlio. Elena, ma mi hai chiesto se voglio davvero dei figli, e soprattutto da te? Ascoltami, ti prego, ti do dei soldi, vai in ospedale e, finché sei ancora all'inizio, abortisci. Che bastardi che sono tutti gli uomini. Io non abortirò, e tu dovrai accettare questo bambino. Gianna notava che qualcosa non andava in suo marito, ma non riusciva a capirne il motivo, e lui non le raccontava nulla. Quando Elena andò in maternità, Yuri la chiamò e le disse che non avrebbe rinunciato al bambino, che l'avrebbe aiutata economicamente. Le avrebbe mandato i soldi sulla carta, ma non si sarebbero più visti, e non voleva più andare da lei. Va bene, pensava Elena, i soldi non sono male, ma quando nascerà mio figlio, farò di tutto per farlo tornare da me. Yuri si sentì sollevato, Elena non lo tormentava più, gli affari di Gianna andavano a meraviglia, e lei passava molto più tempo a casa, cercando di stare con il marito nei fine settimana. Grazie, tesoro, per avermi accettata e aspettato pazientemente mentre ero impegnata con il lavoro. A Yuri dispiaceva un po' perché sapeva che, in realtà, non aveva giustificato le aspettative di Gianna. Non aveva avuto quella pazienza di cui lei parlava, e come un idiota, aveva intrapreso una relazione con un amante che gli aveva dato un figlio. Elena capì che doveva agire. Il bambino aveva già compiuto un anno, ma come promesso, Yuri non si era fatto vedere. Allora lei riprese a chiamarlo, dicendogli che se non fosse andato da lei, avrebbe raccontato tutto a sua moglie. Di pure, lei sa già tutto, gliel'ho raccontato io. Sapevo che da te potevo aspettarmi qualsiasi bassezza, quindi non sarà una novità per lei. E se proverai a disturbarla, attirerai solo la sua attenzione. E allora te ne pentirai. Elena, furiosa, chiuse il telefono. Il suo piano era fallito, e guardò con odio suo figlio. Non le serviva, si rese conto che il bambino l'aveva incatenata e bloccata. Non aveva dormito tutta la notte, cercando un nuovo piano, e al mattino capì cosa doveva fare. Si avvicinò al tavolo, prese una penna e un pezzo di carta. Se non posso portare Yuri via dalla sua famiglia, allora non ho bisogno del bambino. Sono ancora giovane, troverò un uomo migliore, ma con un figlio sarà complicato. Se sua moglie sa tutto, tanto meglio, ci sono più possibilità che il bambino stia bene. Jana è così corretta, quasi fuori dal mondo. Yuri ne ha parlato bene, quindi forse lo prenderà lei. O lo darà a qualcun altro, ma sicuramente non lo abbandonerà. Yuri decise che doveva confessare tutto a Jana, prima che Elena rovinasse la loro vita. Era sicuro che Jana lo avrebbe perdonato, non perché la considerasse ingenua, ma perché non riusciva a immaginare una vita senza di lei. Il loro amore era così forte che dovevano sempre stare insieme. Sì, aveva commesso un errore, ma poteva succedere a chiunque. Cercava di allontanare i pensieri su come avrebbe reagito se fosse stata Jana a sbagliare in quel modo. Quando quella sera Yuri tornò a casa, Jana era di ottimo umore e disse che voleva cenare in un ristorante. Usciamo così di rado insieme. Andiamo a cena in un bel posto. Passarono una serata meravigliosa. Yuri decise che il giorno dopo avrebbe raccontato tutto a Jana, dato che era il weekend e avevano deciso di passeggiare insieme nel parco. Il giorno dopo trascorsero molto tempo a camminare e sedettero in un caffè, mentre Yuri non riusciva a smettere di ammirare sua moglie. La amava follemente. Jana disse che aveva freddo e che era ora di tornare a casa. E Yuri decise di non raccontarle nulla, aspettando di vedere cosa avrebbe fatto Elena. Probabilmente l'aveva spaventata e finalmente lo avrebbe lasciato in pace. Non voleva rovinare la magia di quel momento, né rovinare la vita a se stesso o a Jana. Yuri, cresci lui da solo. L'esse Jana. Poi si voltò verso di lui. Vide il viso pallido di suo marito e sentì un freddo gelido invaderla dentro. Non può essere. Questa lettera è per suo marito. Sì, ma è assurdo. Lei ha sempre avuto completa fiducia in lui. Probabilmente è solo un malinteso. Ora Yuri stesso sarà sorpreso. Ma accadde tutt'altro. Jana, lascia che ti spieghi tutto. Ti prego. Cerca di capirmi e non trarre conclusioni affrettate. Jana quasi gridò per la rabbia. Quindi, Yuri è quel Yuri? Non può essere. Come ha potuto farle questo? È troppo tardi. Yuri, le conclusioni le ho già tratte. In questo momento non solo non voglio parlare con te. Non voglio nemmeno vederti. Prese la scatola con il bambino in braccio e rientrò nell'appartamento. Yuri guardava la porta a chiudersi e non sapeva cosa fare. Era già una settimana che Yuri viveva a casa di un amico. Cercava di mettersi in contatto con Jana, ma il suo telefono era spento. Tentò di chiamare anche Natalia, ma non rispondeva nemmeno lei. Yuri capì di aver perso Jana per sempre. Il suo cuore si spezzava. E odiava se stesso per essere stato così debole quella volta e per aver pagato un prezzo così alto. Il giorno successivo Jana chiese immediatamente il divorzio. Non voleva sentire né ascoltare nulla. Yuri divenne per lei una persona estranea in un attimo. Tutto ciò che riuscì a fare fu chiamare suo padre e dire, papà, puoi venire? Sto male. Il padre arrivò il giorno dopo. Abbracciò sua figlia. Cos'è successo, Jana. Avevi una voce così? Strana. In quel momento il bambino, che dormiva, iniziò a piangere. Jana corse nella stanza, seguita dal padre. Jana, chi è questo? Papà, è il figlio di Yuri. Come? Lei gli raccontò tutto. E cosa ha detto Yuri? Niente, l'ho subito mandato via. Jana, dimmi, lo ami ancora? Papà, non lo so. Penso di doverlo odiare, ma non ci riesco. Forse dovresti almeno parlarci. Dopo un mese, Yuri ricevette un messaggio da Jana. Con le mani tremanti lo aprì. Dobbiamo parlare. Ti aspetto a casa stasera alle sette. Posò il telefono. Non aveva mai pensato che si potesse stare così male. Non riusciva né a dormire né a mangiare. Soffriva e sentiva terribilmente la mancanza di sua moglie. Aveva cercato Elena per chiarire la questione del bambino, ma lei era sparita e nessuno sapeva dove fosse andata. La sera, Yuri arrivò con un grande mazzo di fiori. Non riusciva a parlare, non trovava le parole giuste. Riuscirono a parlare solo dopo che Pavel si fu addormentato. Si sedettero in cucina e Yuri iniziò a parlare. Jana, so che forse non mi perdonerai mai, ma ti chiedo di darmi una possibilità per ricominciare da capo. Allora non eri mai a casa, e a un certo punto ho iniziato a pensare di non esserti più necessario. Ti prego, perdonami, non posso vivere senza di te, non so davvero come andare avanti. E Yuri scoppiò in lacrime. Jana lo guardava inorridita, non l'aveva mai visto piangere in vita sua. Elena ricomparve dopo due anni. Si presentò a casa loro, con l'alito che puzzava di alcol, e iniziò a dire che voleva riprendersi suo figlio. Ora danno dei bei sussidi per i bambini, lui deve stare con me. Yuri, sempre calmo, la prese e la portò letteralmente fuori di casa. Una volta hai quasi rovinato la mia vita e quella di mio figlio. Non te lo permetterò mai più. Quella volta, quando hai lasciato il bambino in pericolo, non ho fatto nulla, ma ora nessuno mi fermerà. O sparisci dalla nostra vita, o mi assicurerò che tu finisca in prigione. 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 Tu finisca in prigione.